L'Europa è anche questo, fatta di tante piccole comunità, tanti piccoli territori di cui dobbiamo valorizzare le identità e questa sicuramente è un'iniziativa che lo fa. Unirsi, lavorare assieme e creare una bella iniziativa di promozione del territorio, di promozione della nostra identità e delle nostre identità è sicuramente un buon viatico, un buon esempio anche su come dovrebbe lavorare l'Unione Europea. E mi fa piacere sponsorizzare questo evento, accogliere questo evento qui come presidente di un gruppo politico al Parlamento Europeo che ha fatto della tutela delle identità, delle differenze, un punto focale della sua attività, della sua offerta politica. Infatti il gruppo, come vedete, si chiama Identità e Demo.